Un saluto da Andrea Castriotta e benvenuti alla nuova puntata di Capitana dei Sport Magazine ovviamente su Mitico Channel. Ricordiamo a tutti gli appassionati di sport di poterci seguire sui nostri social, Capitana di Sport su Facebook, Mitico Channel su Facebook e ovviamente su YouTube l'apposito canale cui invitiamo a iscrivervi. Bene, entriamo nel vivo della puntata, ovviamente copertina dedicata alla stragrande vittoria di Martina Criscio, vincitrice della medaglia d'oro nella Coppa del Mondo di Sciabola a Baltimora. La Foggiana ha superato in finale la giapponese Amura per 15-10, grandissima soddisfazione in casa foggiana e sanseverese perché ricordiamo che la giovane foggiana è tesserata per il club Scherma Sansevero, allenata dal maestro di sempre Benedetto Buenza a cui noi facciamo i grandissimi auguri. Noi però vogliamo riportare l'attenzione anche sul mondo della sciabola maschile quando la scorsa settimana Raffaele Minischetti, sempre tesserato del club Scherma Sansevero, ha vinto loro a squadre sciabola-underbenti a Fenix, gara valida appunto per la Coppa del Mondo anterbenti. Ricordiamo per Raffaele il prossimo incontro 10 e 11 febbraio a Duran in Francia con gara individuale e a squadra. Bene, fatto questa grandissima premessa entriamo nel campo, meglio sui campi a squadre, ricordando tuttavia che la palla a volo femminile serie B1 e serie B2 riposava e andiamo diciamo nella pallavolo maschile, anche qui il campionato riposava per la Coppa Pugliese serie C maschile, con le nostre due compagini impegnato l'Enrico Tecno Master Beats Cerignola che ha battuto agilmente in casa l'ASD a liste volley e l'ADS Group Lucera che ha battuto in casa la San Demetrio Volley Specchia. Complimenti ai nostri alfieri e ricordiamo che appunto erano i quarti di finale e che le nostre compagini si sono qualificate per la semifinale. Anche il campionato di serie D di pallavolo femminile era fermo per la Coppa Puglia, qui avevamo una sola squadra impegnata, la Foggia Volley che purtroppo perde malamente a Bitonto contro la Just British Bitonto per 3-7-0. Comunque buona prova per le ragazze di Valeria Di Mauro che vogliamo ricordare si siano battute contro una formazione molto forte e soprattutto molto esperta. Basti pensare appunto della differenza dell'età media 27-20. Questo comunque fa ben sperare appunto per il futuro. Cambiando sport entriamo nel mondo della cestistica con serie B, serie B girone C, con l'Allianz Pazienza Sansevero che vince in trasferta a Matera contro appunto l'Olimpia Matera per 95-90. Bella gara per i ragazzi di Giorgio Salvemini che appunto la spuntano negli ultimi minuti. Una partita davvero molto tirata, molto molto bella. Altrettanto bella e altrettanto tirata è la vittoria dei cannibali della Castellano Udas Cerignola che vincono in casa contro Val di Ceppo per 55-53 e appunto fa sì che i ragazzi salgano in classifica a 12 punti. Scendendo di categoria in serie C Silver girone A purtroppo dobbiamo diciamo attestare le due sconfitte delle nostre squadre. nuova pallacanestro Ceglie batte Silac Manfredonia per 95-82, la Sunshine Vieste invece perde in trasferta contro la pallacanestro Lupalecce per 89-67. Davvero sconfitta pesante anche perché i ragazzi di Estani comunque se l'erano giocata più o meno, più o meno, almeno nei primi due quarti. In serie D giochi e dolori in quanto la Diamond Foggia perde contro la capolista Trani con Fortitudo Trani per 77-71 in trasferta. Comunque bella prova dei ragazzi di Coach Vigilante. Mentre dobbiamo sottolineare la grandissima vittoria dei cussini appunto del Cost Foggia che asfaltano in casa al prezioso, al palazzetto prezioso, L'Angiulli Bari per 62-39. Davvero complimenti per i ragazzi foggiani. Scendiamo di categoria, promozione girone A, Virtus Foggia batte nuova cestistica Ruvo per 79-58, la Frassati San Giovanni Rotondo batte in casa Bulls bisceglie per 81-79. Davvero voglio sottolineare questo risultato e fare un grandissimo applauso ai ragazzi di Armando Radeglia. Purtroppo la basket Lucera perde in trasferta contro New Basket Barletta per 67-58. Ora vogliamo parlare della capolista, la Sbeva Lucera, che vince contro Nike Terlizzi per 63-32. Come vedete dalle immagini, due o tre canestri dei ragazzi lucerini. E qui è doveroso fare un saluto al coach Roberto De Florio e al presidentissimo Luca Maglia. Davvero complimenti per questa stagione. Auguriamo davvero i migliori auspici per il seguito. Adesso cambiamo sport, rugby. Ampia pagina per questo sport che sta diciamo sempre più spopolando in capitanata. Parlando della senior, serie C2. Purtroppo il Foggia Rugby perde l'importantissima partita contro Potenza per 27-12. Appunto i Foggiani, terzi in classifica, sfidavano i Potentini al secondo posto e questi purtroppo allungano proprio sui rossoneri. Purtroppo non è da giustificare la sconfitta, però è doveroso sottolineare i tanti infortuni in casa Dauna. Differente per Lander, i ragazzi del Lander. Qui appunto vedete il classico saluto, anzi adesso ve lo faremo sentire proprio l'Urra. I ragazzi Foggiani si sono imposti contro Tigribari in trasferta per 26-22. Davvero partita coracea, complimenti ai ragazzi, sottolineando le mete di Pepe, Zingaro Ciffo e Corvino. Corvino, Valerio, che tra l'altro è stato convocato per un raduno interregionale. Davvero complimenti, tra l'altro figlio d'arte, figlio anche del presidente Ciro. Appunto cogliamo l'occasione per salutare. Cambiamo sport, palla a mano in Serie A2. Vittoria in trasferta della Frita in Manfredonia, che vince appunto 30-28 contro Proger Teramo. I Sipontini salgono in classifica a quota 13 e ricordiamo il prossimo impegno casalingo contro la vicecapolista Putignano. Prima dei saluti finali vogliamo sottolineare per il podismo le 500 maratone corse da Massimo Faleo, che appunto vedete in sottofondo. Davvero complimenti per questo risultato più che onorevole. 500 sono davvero davvero tantissime. Ultimo servizio di giornata, Tennis Tavolo. Vogliamo sottolineare la grande affluenza di pubblico alla Puglias Cup Butterfly. Gara unica nel suo genere, dove appunto vedeva coinvolte tutte le vincitrici delle serie regionali di Tennis Tavolo. La vittoria va accorato, tuttavia vogliamo salutare e omaggiare la presidenza regionale della FITET, che appunto si è disimpegnata egregiamente per questo evento. Bene, siamo davvero ai saluti e ai titoli di coda. Come al solito voglio ricordare a tutte le associazioni, agli sportivi che ci vogliono aggiornare sui risultati, di inviare video, immagini, mail, appunto all'indirizzo info-capitanateisport.it Ve lo ricordo, è gratis, è una grande vetrina per voi. Fortunatamente stiamo crescendo sempre di più, scusate diciamo l'autocelebrazione. Pertanto vi invito nuovamente a seguirci e a inviarci le vostre immagini. Grazie ancora, a prestissimo. Grazie. 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 Grazie.